Un breve video sta emergendo nel quale sembra che Filippo Turetta abbia attaccato Giulia Cecchettin con le mani durante la notte di sabato scorso. Questa informazione proviene da fonti vicine all'indagine. Le immagini sono state catturate dalle telecamere di sicurezza presso lo stabilimento di Ordi Fossò, Venezia, situato sulla strada dove erano state precedentemente individuate presunte tracce di sangue e capelli la scorsa domenica. Nel video Filippo sembra coinvolto in un'aggressione nei confronti di Giulia, seguita dal giovane che la carica ferita nella sua auto a mani nude. La polizia sta indagando su questi inquietanti eventi per comprendere appieno la situazione.